Forza ragazzi, bravi, tirco, stiamo facendo un grande addominale di tutti, questo è un esercizio forza, solo collegate, esercizio per l'addome, benissimo, ed il corcio addominale, ricordiamo sempre che il torcio funzionale è fatto di 29 muscoli di due cilindri, un interno e un esterno, questi esercizi funzionali per l'ecco di reclutamento di tutti e 29 muscoli della torcia addominale, della parete addominale. Pausa.